Potrebbero non entrare più negli esercizi pubblici e nei locali a Città di Castello, San Giustino, Umbertide e a Trestina, nonché nelle sagre che si terranno in tutta l'Alto Tevere, i nove ragazzi che facevano parte della gang che aveva organizzato la spedizione punitiva contro un ventenne lo scorso 8 luglio a Promano. Il questore infatti, su indicazione degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Tifernate, ha avviato le procedure amministrative finalizzate alle missioni di altrettanti DASPO urbani, meglio conosciuti come Willi. Adesso i ragazzi, tutti fra i 18 e i 20 anni, hanno alcuni giorni per potersi difendere attraverso una testimonianza diretta al questore o con delle memorie scritte. Una volta terminata la finestra di tempo, il questore deciderà se mettere il DASPO o meno. Le ultime comunicazioni di avvio del procedimento sono state infatti notificate questa mattina dagli agenti del Commissariato Tifernate. I procedimenti per i DASPO sono arrivati a seguito dei gravi fatti avvenuti lo scorso luglio nella sagra di Promano, nel corso della quale nove ragazzi si erano resi protagonisti di una violenta aggressione ai danni di tre coetanei, fra cui uno che aveva ricevuto un pugno in volto con una prognosi di 35 giorni. A seguito della denuncia, vennero effettuate anche delle perquisizioni nella casa dei nove ragazzi, dove gli agenti trovarono coltelli, tirapugni e bastoni. Proprio in considerazione della pericolosità di questi giovani e della gravità dei fatti, c'è stata da parte degli agenti la richiesta al questore.